Per il terzo anno consecutivo torna a Bari il Marketing and Retail Summit, appuntamento organizzato dal settimanale GDO Week e il mensile Markup del Sole 24 Ore Business Media. Con oltre 24 relatori, numerosi esponenti di spicco del settore distribuzione e industria, si sono confrontati sulle nuove sfide del comparto, dalla sostenibilità all'innovazione tecnologica, soprattutto in riferimento al segmento della distribuzione alimentare e in atto una vera e propria rivoluzione, puntualizza Cristina Lazzati, direttrice di GDO Week. Per la distribuzione, in particolare per la distribuzione alimentare, è un momento di revisione un po' di tutto quello che si è sempre fatto, perché il lavoro non è cambiato, ma è molto cambiato il modo di lavorare. Sono arrivate nuove tecnologie, parlo di intelligenza artificiale, parlo di tutta la possibilità attraverso algoritmi di fare le cose molto più velocemente. Questo significa quindi che il punto di vendita sparirà, assolutamente no, che le persone saranno meno importanti, ancora meno no. Certo è che c'è bisogno di rivedere tutto tenendo conto dei nuovi strumenti oggi a disposizione. Un settore in evoluzione che si trova davanti a delle sfide, allora come rispondere e quali visioni arrivano da sud? Le visioni cambiano di mese in mese, perché qua ovviamente tra l'inflazione che abbiamo appena lasciato, le varie guerre, le varie situazioni globali, ovviamente quando parli di globalizzazione nel nostro settore si fa presto a cambiare visione di volta in volta. Una delle principali sfide è rappresentata anche dall'innovazione tecnologica che in qualche modo sta entrando nel settore, allora come rispondere? Adesso si parla di self-checkout, di negozi dove entri, fai la spesa senza assistenza, esci e vai a casa direttamente senza toccare cash. Sicuramente ci stiamo pensando, anche se è una tecnologia per ora molto costosa, quindi ci sono un po' di test in giro, ma noi aspetteremo ancora qualche altro mese. Quali scenari si stanno delineando per il settore che è in costante evoluzione? Sono scenari complicati, nel senso che le dinamiche di mercato dell'anno scorso inflattive, piuttosto che la parallela contrazione di potere d'acquisto si sta sempre aggravando, sicuramente non sono buone notizie, però è un contesto difficile per i consumatori che quindi richiede fortissima attenzione a tutti gli aspetti di recupero di efficienza e di capacità di guardare oltre, di riuscire a innovare, cambiare i modelli di business perché di fatto la concorrenza sarà sempre più agguerrita, il mercato rimane quello che è, quindi farà fatica a crescere e quindi bisognerà saper cogliere prima di altri le opportunità anche che la tecnologia ci dà di rinnovare il nostro modello di business. Il nostro settore vive una trasformazione con sfide di medio e lungo periodo a cui si sono sommate negli ultimi anni le sfide legate alla compressione del potere d'acquisto, quindi quello a cui siamo chiamati oggi è continuare ad investire in tutto ciò che sono i nuovi trend e le innovazioni necessarie al retailer per rispondere adeguatamente ai cambiamenti dei bisogni di consumo e nello stesso tempo come contrastare il calo dei consumi legato all'erosione del potere d'acquisto che l'iperinflazione degli ultimi due anni ha determinato.